Ciao a tutti ragazzi, siamo i FedEx, siamo in due, se non avete capito nel canale, non parliamo mai, io sono David e lui è Federico, e niente, stiamo facendo un altro video su Slenderman, su, stavolta su claustrofobia, sempre sentiamo così, lo so ragazzi, ben bene, la prima volta che parliamo, non abbiamo idea di questo, di questo, in questo gameplay cosa dobbiamo fare, dato che la prima volta che parliamo, è un labirinto, si, dicevo ragazzi, è la prima volta che ci insistiamo, perché ci siamo fatti prestare il microfono dal nostro amico, ma presto, presto, scusate ragazzi, presto, ci organizzeremo meglio e provvederemo a comprare gli accessori giusti, ma questo doveva trovare, non ho più pari d'idea, non so, ma questo qua è impestantissimo, infatti ho visto che all'inizio ci chiedevano dieci, dieci oggetti da raccogliere, mi pare, però a dipendere, forse bisogna, forse ha questo, una chiave, esattamente, dieci chiavi bisogna trovare, eh, se in teoria vuol dire così, perché io in inglese se ne metto su tre e rimando con tre, questo qua, quindi, ah perfetto, ho avventato, questo episodio è molto, cioè, ha fatto l'ambientazione molto, che si sa fare lo slender, che sei dietro, come ad esempio adesso, non vuoi evitare, ti viene un accidente che rimani poco, poi chiama l'ambulanza, bella, comunque sì, ormai avete capito, che ogni volta che si trova un oggetto, lo slender si avvicina sempre di più, verso la fine diventa davvero difficile, molto difficile, mi raccomando ragazzi, il gioco ha il free download, quindi lo potete scaricare liberamente, senza problemi, dai vai dritto, eh adesso si giriamo, ehi Gianluca, sento offeso ragazzi, è ingroppato, perché lo slender mi ne ha tanta voglia di sesso, ci vuole ingroppare, ah vecchio, hai troppo, cerco di non andare nel stessi posto in cui sei in grado, ehi tu, questa volta non c'ha, non l'abbiamo ancora visto la, con la faccia di me, non torniamo di guarda, però dieci, dieci chiavi sono davvero tante a trovare, soprattutto in questa abilitazione, ehi Gianluca, un po' dal abilitamento, eh vecchio questo qua, è pesante questo livello, ah ma vaffanculo ci sono appena stato, non si può, non si può confondere facilmente, ah, mi hai detto, quali ci sono stati, non so, presto ragazzi continueremo anche la saga, di Anno V3, con qualche altro video, si, 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 eeeh, si, ma qua c'è, no, perché siamo fermi dici, vedi, per mare, ma c'è un tempo già, porca puttana, oh ma questo è vuoto, è vuoto, è sessuale, avvicinati ancora la saga, eh, se mi lascio il tempo, perché poi c'è tutto un casino, per vero, oh, yes, fuck, corri, questa è buona, ma qua è la prima zona un po' aperta, buono, 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 a parte dai gammi troppo male, si, no, comunque qua, colisco mai con il punto di riferimento, che altro, si, vedi la stanza, si, no, no, vai qua, dai, proprio, merda, affanculo, no, è per la zucca, vai lì, c'è la campagnina lì, ma non c'è un cazzo, ma non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, anche l'hai vista, come si vedeva, allora, se ci, dai, 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 ma vai a cagare, porca puttana, no, ah, questa qua, mi sa che ragazzi, durerà un po' più del solito, perché, sto gameplay, è veramente, sta mappa di merda, è veramente inculosa, no, va che dire, si passava, si lo so, mi, 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 mi ispira di più questo, ma davvero grande, questo è davvero grande, no, cioè, perché è grande come mappa, boh, è insidioso, cioè, non capisci, lì è chiaro che è chiuso, perché ci va, non so, c'era un cazzo di, merda, anche qua, è difficilissimo, ma si, infatti, vedi che, non dappare così facilmente, ha proprio un negro, quello che fa, John, aspetta, giocco, cazzo di mappa, qualche puttana, se sempre, se si può, in questo angolo, che c'era troppo, questo angolo, per me ci sono già passati, ma, no, 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 eh, John, corri, guarda, le fanno a prendere in mano, ragazzi, è un slender, basta che, non continuate, come avrete poi capito, guardarlo fisso, difficilmente vi catturerà, almeno che, come avrete potuto vedere, in alcuni nostri, precedenti gameplay, appena, stavano per trovare l'ultima pagina, ci spintava davanti, ci spintava davanti, ci impurava bruttamente, dai, Peris, vai sempre allo stesso posto, Peris, si, ci siamo già passati, tante volte, Dioca, ma che devi stare cani, ci siamo già passati, ci siamo, ci siamo già passati, vuoi andare te, dove cazzo vuoi andare, stai girando, la mappa è enorme, a mezz'ora, che sei nello stesso posto, ma che a mezz'ora, bisogna scendere lo stesso posto, questa chiave di merda, non si trova, ma guarda, che casino fai, stai cani, fratello, guarda, ci siamo già passati, tutti ci vuoi, stai zitto, non si ritrovò più, ah, che cazzo ti devo dire, mica riesco di stima, è tutto uguale, capitano, sei brutto ragazzi, che brutto del solito, ehi John, che culo di merda, prima ce l'avevo incandato, corri, il personaggio si è stato, cazzo, vero, 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 non è più nuovo, ah, vado più, non è più nuovo, guarda, negli aboli, ci sono dei cazzi di statulette, di due, oh, 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 andati, non lo so, c'è anche di andare più su, porco dito, perché tu fai sempre il stesso giro, ah, vecchio fa sempre il stesso giro, ah, perché tu fai sempre il stesso giro, ah, c'è qualche buon palle, ah, anche questo qua è difficile, tu ne vai dietro? mh, non mi piace tutto, anche se lo mettono in delle tante, finito, eccolo, che ca, ma riesce a correre, vecchio? ah, non lo so, ecco, oh, di qua è sempre lo stesso posto, siamo sempre in piedi, oh, cattolica, ce lo mette nel culo, corre, 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 ah, qua si è troppo, statua di riferimento, che fosse, molto facile, e qua, di qua, vedo una campanella, no, dritto, ah, che cazzo ha? che cazzo ha fatto? non lo so, non lo so, non lo so, anche, a due, eh, oddio, che giochi è in un'amorità, facciamo in un modo, e poi, che giochi di far, non lo so, non ciò che si è scaricabile, fortissimo, tutto difficile, ma, se la notte lo facciamo stavolta, e veramente, io lo provo ci sono davvero tante anche le cose che ho già detto di fare ma ci sono 11 no 11 che 11 10 o 8 10 10 10 sono 10 sono 10 di solito erano 8 questa mappa ha proprio dato che è più grande e più pestata 10 10 eh lo so che ho visto no però non è male come mamma più altro che è caricimata si capisce poco l'ha pensato abbastanza bene che cazzo a voi ah proviamo di colpa ah ci siamo all'inizio di un po vai dritto però per lì la ah oh 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 eh no io ho cane poi eh perché per me prendiamo troppi tasti eh sì eh ecco ecco la ma siamo cinque ragazzi e metà siamo arrivati adesso ce lo mettiamo dal direttore eh hai visto che in questo episodio mi pare che abbiamo anche i tentacoli eh in questo episodio c'è i tentacoli eh eh no non è figo no è almeno la leggenda di Osslander narra che sia questa creatura con eh ma io che erano tutte da questa parte che siamo un uomo come avete potuto vedere molto alto vestito con lo smoking e con dei tentacoli che sputtano nella schiena senza volto eh c'è lo smoking senza volto con un volto bianco e i tentacoli in teoria eh etnotizzano la preda sì se sto caso sì se sapete non mi arrega siamo per casinata ma che ci ne sono sei eh ma cazzo c'è una cosa mi sono mezz'ora da 4.6 ah ma ieri dove siamo ah ma che paura ah ah bisogna avere pazienza ah qua ci scommetto che se ce n'è una ma ci giriamo ma non ce n'è una ma ma negro l'ho detto di sotto cuore su eh infatti però vedi che ci sta inculando un po' di sera la scarica perché poi questo in questa in questa eh come si può dire ambientazione no no c'è in questo questo nuovo gioco che hanno fatto dopo capito si che hanno fatto dopo i scopatori c'è prima se ti ricordi non era così non avevo i tentacoli quando ti vedeva si vedeva tutto scuro no si vedeva oscurato come il vostro vento no si vedeva tutto bianco cioè come un'interferenza come un'interferenza esattamente perché adesso ci ha ricattato tutto tutto vabbè ragazzi no mi volevo far vedere vi volevo far vedere giusto l'ambientazione perché trovarli tutte è difficile e grazie per la visione mi raccomando iscrivetevi alla prossima ciao